L'assessorato Scuola, Università, Cultura, Turismo e Spettacolo ha avviato il servizio di refezione anche per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado che usufruiscono per due giorni la settimana del pasto pronto nei centri di refezione sforniti di cucina. I plessi interessati sono quelli della Pietroleone, Giovanni Verga e Rosso di San Secondo. Dalla rilevazione della Customer Satisfaction effettuata lo scorso anno tra gli studenti, l'assessorato ha introdotto dei correttivi e ha dato incarico alla ditta che ha in appalto il servizio di refezione di predisporre delle tabelle per un pasto sostitutivo che incontri un maggior gradimento degli alunni, al fine di evitare sprechi e guidare gli studenti verso un sistema di alimentazione per loro gradibile, ma che al contempo rispetti il più possibile le linee nutrizionali LARN. Il nuovo pasto sostitutivo che è stato introdotto con delibera di giunta vede anche la rimodulazione al ribasso delle tariffe e dei ticket a carico delle famiglie e degli studenti. Le nuove tariffe applicate in base alle fasce di reddito ISEE sono le seguenti. Da 0 a 3.000 euro fasce esente, da 3.000 euro a 8.000 euro 1 euro di ticket, da 8.000 euro a 14.000 euro 2 euro di ticket, da 14.000 euro in poi 3 euro.